La tragedia avvenuta lunedì scorso lungo la strada statale 19, nel tratto compreso tra i comuni di Battipaia e Deboli. Uno scontro frontale ha strappato alla vita una giovane mamma di 38 anni e la sua piccola di appena due anni. La donna purtroppo è deceduta sul corpo, mentre la piccola era stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale Santo Buono di Napoli, ma ieri il suo cuore ha smesso di battere. Questa mattina si sono svolti i funerali. Voglio che sappiate che non siete soli, ha scritto il sindaco di Battipaia, Cecilia Francese, su Facebook. Che a stringervi ad accogliervi in un abbraccio c'è la vostra comunità tutta. La scomparsa di una persona così giovane e di sua figlia è un fatto crudele, una realtà che noi per primi stentiamo ad accettare. Un dolore che dovrebbe rimanere privato, ma non può essere così. Non può essere così se a morire sono una ragazza giovane e una bambina di due anni. Non può essere così se ciò accade su una strada che ha visto morire altri ragazzi, altre ragazze, altri padri e altre madri. Non possiamo più rimandare. È necessario indire quanto prima una riunione che coinvolga noi, il comune di Eboli e l'azienda che gestisce quella strada, sottolinea il primo cittadino, e subito intervenire sulle curve più pericolose, prevedere elementi di dissuasione di velocità e corsie di emergenza. Agire su tutti quegli interventi non più prorrogabili. Oggi è il momento del dolore, della preghiera e della riflessione, ma il dovere di noi amministratori è fare di più, fare tutto il necessario per rendere la Statale 19 una strada sicura.